A meno 5 sui 30-40 accessi abituali che abbiamo in pronto soccorso sono positivi. Il Covid non rispetta estate e vacanze e al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Vicenza i numeri sono molto simili a quelli dell'inverno. Dei 30-40 accessi al giorno, di media 5 sono positivi al tampone. Una situazione delicata che mette a dura prova la resistenza di medici e infermieri costretti a turni massacranti. In agosto è un po' anomalo, nel senso che notoriamente in questa fase dell'anno noi tiriamo un po' il fiato. Invece quest'anno direi che l'attività ha le stesse caratteristiche del periodo invernale e primaverile. E la colpa è soprattutto del Covid, pur essendo situazioni non gravi, molti bambini vengono accompagnati dai genitori al pronto soccorso anche in presenza di sintomi lievi, come qualche linea di febbre. Ogni giorno riscontriamo almeno 4-5 positività di pazienti non gravi, per fortuna, quindi gestibili a domicilio, ma il carico di lavoro permane sostenuto. In pratica la struttura è costretta ad avere un doppio pronto soccorso. Quando un paziente arriva in accettazione dichiarando una sintomatologia febbrile o gastroenteritica, deve passare attraverso la parte dedicata al paziente Covid. Quindi abbiamo praticamente un personale che si occupa solamente di questa area, perché deve essere messo in sicurezza. Tutti i pazienti con questa sintomatologia vengono sottoposti al tampone per accertarsi della positività o negatività. In caso di positività restano in un ambiente isolato. I ricoveri sono per lo più legati ad altre patologie, ad altri motivi. I pazienti che arrivano per esempio con un trauma cranico, fanno il tampone e sono positivi, quindi restano in un'area Covid per altri motivi, compresa la positività. Non abbiamo avuto questa settimana un paio di bambini piccoli con problematiche respiratorie, ma si sono risolti per fortuna rapidamente. La speranza è che l'andamento rallenti per dare una tregua al personale e consentire a medici e infermieri di occuparsi dei casi di malattie più gravi.